Gli scenari politici Gli scenari politici a livello nazionale che si propongono alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva e questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Luciano Schifone, consigliere regionale del PDL, nonché presidente del tavolo di partenariato economico-sociale e delegato del presidente allo sport e spettacolo. Scenari a quanto confusi sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, centro-destra in cerca d'autore, centro-sinistra in cerca di camomilla. Sì, viviamo una fase molto complessa, di grande confusione dovuta essenzialmente alla crisi economica che è stata talmente violenta da disarcionare un governo eletto come quello del governo Berlusconi e oggi con un governo tecnico tuttavia la situazione non è assolutamente migliorata. Da più di un anno a questa parte questo governo avrebbe dovuto risolvere i problemi, in realtà forse un po' li ha tamponati, ma la crisi continua a demore. In tutto questo ci si avvicina alla scadenza fatale della legislatura, quindi io non credo assolutamente, non ho mai creduto, l'ho sempre detto, ma ancora ora naturalmente di più alla elezione anticipata. Quindi si arriverà a votare la scadenza ordinaria, quindi fra marzo e aprile probabilmente, quindi i tempi stringono anche perché c'è la necessità di questa riforma elettorale che obiettivamente è una riforma oggi necessitata, non tanto perché serve dal punto di vista tecnico ma perché dal punto di vista politico una mancata riforma potrebbe creare ulteriore alimento ad una... Ecco, una riforma che deve tenere anche conto dello sfaldamento delle coalizioni sia nel centro-destra che nel centro-sinistra. Ma proprio per questo c'è questa difficoltà, perché se gli schieramenti fossero rimasti compatti come quelli che abbiamo conosciuto negli ultimi 10-15 anni, fare una riforma del cosiddetto porcellum, del metodo elettorale precedente non sarebbe stato difficile, bastava semplicemente introdurre il concetto delle preferenze o dei collegi la riforma sarebbe stata bella e fatta. In realtà, poiché c'è un quadro politico in fortissima evoluzione, i rapporti politici e gli equilibri non sono più quelli di prima e quindi ovviamente in una riforma elettorale ognuno scalcia e sgomita per cercare di ottenere la riforma più comoda, più utile. In tutto questo, oggettivamente c'è l'interesse del centro-sinistra, mi riferisco in questo caso al PD SEL, al gruppo che fa capo all'APD, tutto sommato, anche se in maniera inconfessata, inconfessabile, lasciare le cose come stanno perché loro pensano di poter vincere e quindi in questo caso potrebbero massimizzare il risultato. Ecco, nel caso le cose cambiassero, ciò che divide, non parliamo più di poli perché appunto abbiamo detto che non ci sono più, ciò che divide i maggiori partiti, PD e PDL, è appunto la preferenza o il collegio uninominale? Sì, c'è questo. Oltre il premio al partito e non alla coalizione. C'è la questione del premio al partito, c'è la questione della soglia minima di accesso, quindi di sbarramento. Evidentemente ci sono alcune questioni complesse, è evidente che se si dovesse cambiare con il premio al partito e non più alla coalizione cambierebbero molti rapporti. Oltretutto questo premio di maggioranza non sarebbe più quello di prima, ma sarebbe minore. Ora, senza entrare nel tecnicismo che gli spettatori potrebbero anche non gradire, ci sono delle questioni di assetto del quadro politico che è in forte evoluzione e quindi ovviamente è difficile fare una legge che accontenti i maggiori partiti che non sanno su quale schieramento dovranno affrontare. Questo naturalmente come prospettiva prima o poi bisognerà risolverla, così come bisognerà risolvere naturalmente la impostazione di leadership e di candidatura. Per quanto riguarda il centro-destra non voglio sfuggire alla domanda e all'esame. Io direi che noi non siamo in cerca di autore, perché l'autore c'è ed è Berlusconi, su questo non c'è dubbio. Siamo in cerca di protagonismo, cioè di chi sarà il protagonista dal punto di vista del candidato alla presenza del Consiglio. Poi vedremo se quest'autore farà un testo che piace a tutti all'interno del centro-destra, questo non è detto definitivamente. Comunque questa è un po' l'impostazione. D'altro canto, se ci dovesse essere un sistema di tipo proporzionale e non maggioritario, anche la candidatura del candidato Premier viene meno. Quindi tutto io ho una riflessione che ancora non si è fatta, è un po' originale questa riflessione di oggi. Ma in realtà se la cosa dovesse andare nel senso di un'impostazione proporzionale, l'indicazione del Premier non ha più senso, quindi non c'è più questa necessità. Quindi vedremo quali sono le conseguenze. Io sono dell'opinione che il bipolarismo era una delle poche conquiste positive della Seconda Repubblica. Purtroppo la situazione si sta mettendo in modo tale da abbattere questo sistema, che era un sistema che garantiva all'elettore la scelta del partito, non dell'elettore, lì bisognava modificarla, quindi una volta modificato l'eletto del partito, dello schieramento del programma e del capo del governo. Quindi l'elettore aveva chiara qual era la proposta politica. Togliere questo elemento, quindi riportare tutto il proporzionale, significa che l'elettore non sa più. Sa per quale partito vota, ma non sa più per quale programma e per quale governo andrà a costituire il Parlamento successivo. Il calendario dell'attività politica è un po' simile al calendario scolastico. In effetti l'anno inizia dopo la pausa estiva e termina all'inizio della pausa estiva. Ecco, siamo alla ripresa dell'attività. Quali le priorità per la Regione Campania? Innanzitutto c'è il lavoro. Sì, c'è innanzitutto il lavoro con una situazione abbastanza complicata e pesante che in campagna riguarda non soltanto la crisi di carattere generale che c'è a livello nazionale, ma anche una situazione di grossa difficoltà di interi settori che sono a rischio sia nel campo dell'industria, pensiamo alla Finmeccanica, alle Salcantieri, alla Fincantieri, pensiamo alle alcune aree anche, purtroppo anche quella di Pomigliano, perché il calo delle vendite delle automobili sta determinando di nuovo una situazione di crisi, e sia anche rispetto a quelle partecipate della Regione che in passato hanno determinato delle sacche di stipendiati sostanzialmente che oggi pesano in maniera notevolissima sulle case della Regione e che bisognerà da una parte riorganizzare per metterli davvero al lavoro, dall'altra parte trovare i fondi per poter fronteggiare questa situazione. Una situazione molto complessa che però la Regione sta affrontando con serietà e rigore. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.